Un altro grave incidente in Sicilia. Il sinistro si è verificato sulla strada statale 117 bis all'altezza dello svincolo per Piazza Armerina, dove un'auto con a bordo quattro persone si è scontrata frontalmente con un camion. L'impatto è stato violentissimo. Il bilancio parla di un morto, si tratterebbe di una donna della provincia di Ragusa e di quattro feriti gravi che sarebbero stati trasportati negli ospedali di Gela, Piazza Armerina, Caltagirone e Caltanissetta. Sul posto sono intervenute tre ambulanze arrivate da Gela, Niscemi e Piazza Armerina e due elicotteri di soccorso del 118. Il tratto di strada dove si è verificato l'incidente è rimasto chiuso in entrambe le direzioni, con il traffico che è stato deviato lungo la viabilità limitrofa. Subito sono arrivate le forze dell'ordine e i vigili del fuoco per i rilievi del caso e favorire il normale ripristino della viabilità.